What's up guys! Io sono Cristian, in questo video vi farò vedere come io abbino le Creeper Le Creeper in questione sono due, un paio sono di Asos e un altro paio sono di una pagina di Instagram che vi citerò dopo Allora, quelle di Asos sono queste qui Sono alte 3,5 cm Le ho pagate sui 30€ circa, ormai ce l'ho comprata a novembre, una roba del genere Ci sono un po' scatafrasciate perché le usate anche sugli scogli, però comunque per 30€ sono anche già buone Le altre sono queste qui Invece sono alte 5,5 cm Sono tutte queste borchie qui intorno Non vi assicuro nulla Non lo so, sono capace Ovviamente Queste qui le ho prese su una pagina di Instagram che si chiama Black G Store Poi ve la... Proverò a cercare il link a metterlo sotto in descrizione Le ho pagate su 13€ circa Vi farò vedere 4 look Tutti i vestiti ve li citerò qui sotto Alcuni pantaloni sono dei do-it-yourself Oppure sono dei pantaloni trovati negli scatoloni Comunque sono dei pantaloni larghi Semplicemente poi stretti sulla vita Cioè che ho fatto stringere oppure li stringo io con la cintura Quindi Quello che vi dovevo dire l'ho detto E inizio con i video 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 Benissimo I look sono finiti Ringrazio chiunque sia arrivato fino alla fine Se vi è piaciuto il video Cliccate mi piace Commentate E iscrivetevi al canale E spero che vi sia piaciuto il video E niente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti